Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 nella città di Torre del Greco. Nella giornata di ieri certificate altre 9 positività, di cui 8 in forma sintomatica e una ospedalizzata. 3 invece i nuovi casi di guarigione. In totale sono 134 i cittadini positivi. A Torre annunziata 3 i nuovi positivi e 2 le guarigioni. In totale sono 59 i cittadini attualmente positivi, 56 posti in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso il Covid Center della Regione. A Portici intanto sono giunti gli esiti dei tamponi ripetuti agli anziani e agli operatori della casa di riposo Pio XII. Risultati positivi altri 10. Al momento tutti in forma sintomatica. Gli anziani risultano in condizioni cliniche stabili. A Dercolano registrati 29 positivi e 5 guariti. Allo stato attuale sono quindi 161 i cittadini positivi al Covid-19. Castellammare contagia ancora in crescita. 20 nuovi positivi, 169 totali.